Taranto vive il dramma di Ilva Arcelor Mittal, il cittadino purtroppo si vede costretto a dover scegliere tra tutela della vita e della salute e lavoro. È una realtà davvero inquietante. Ne parliamo con Vincenzo Di Gregorio, detto Enzo, candidato al Consiglio regionale pugliese con il Partito Democratico. È indubbio che la salute viene al primo posto. Questa città ha fatto la sua scelta, ormai nella testa dei Tarantini questa cosa è ben presente. Sul rapporto con l'Ilva, sulla grande industria, si deve tenere presente che la grande industria deve essere una grande industria non inquinante, perché se no non ha senso che esista. È chiaro che ci vuole un rapporto diverso rispetto al passato, dove la dignità dei Tarantini e della salute dei Tarantini venga al primo posto, per cui io lavorerò in questo senso. Grazie.